La lettura e Leonardo da Vinci sono i temi centrali intorno ai quali la Regione Toscana ha costruito la partecipazione all'edizione 2019 del Salone del Libro di Torino, con lo stand che vedete nelle immagini e un fitto programma di incontri e convegni. Come ogni anno, lo stand, curato da ToscanaLibri.it, è diventato la casa di tanti piccoli editori, 39 in tutto, provenienti dalle province di Firenze, Siena, Livorno, Pisa, Luca Grosseto, Arezzo e Pistoia. L'opera geniale di Leonardo da Vinci, nell'anno del Cinquecentenario dalla Morte, viene raccontata attraverso la presentazione di libri pubblicati da editori toscani e incursioni teatrali. Nel corso della manifestazione è stato illustrato il patto per la lettura che la Regione Toscana ha lanciato lo scorso novembre, un'alleanza fra i vari soggetti del mondo del libro per trasformare la lettura in un'abitudine quotidiana. Negli anni scorsi la Regione Toscana ha investito in biblioteche pubbliche e in 12 reti documentarie, ha emanato un bando sui progetti per la bibliodiversità e promosso iniziative nelle carceri e negli ospedali, nonché servizi di prestito in 13 lingue straniere.